Il caso che vengo a presentarvi nella giornata di oggi non è un caso particolare, ma è un caso che si presta ad alcune considerazioni anche di gestione e di comportamento di fronte a patologie relativamente frequenti che però possono avere uno spettro di presentazione che a volte è diverso, non è quello che noi ci aspettiamo. La storia di questo giovane, perché si tratta di una persona di una trentina d'anni, inizia nel febbraio 2016 quando si presenta in pronto soccorso perché da circa 4 giorni e comparsa una febbre con tosse produttiva, l'escreato è riferito verdastro, dolore al torace, ma si sa che quando c'è la tosse un dolore toracico soprattutto a senso bruciore può essere abbastanza frequente e viene riferito che questo dolore impedisce anche la ispirazione profonda. Dal punto di vista dei parametri, come potete vedere, sono tutti pressoché normali, a parte il paziente era un paziente giovanotto piuttosto robusto quindi ci stavano anche valori pressori in corso di stress piuttosto elevati, ha un esame di obiettivo anche respiratorio completamente negativo è un po' tachicardico, probabilmente per la febbre. Viene dimesso con l'india di paracetamolo, viene dimesso anche forse per questo discorso di escreato verdastro anche se effettivamente ci sarebbe da ragionare sull'inserire un antibiotico in un paziente con una sintomatologia che potrebbe evocare anche una problematica virale con un dosaggio, con una terapia a base di amoxicina e acido clavulanico con un grammo per due. Avrei onestamente prescritto tachipirina fissa o eventualmente qualche brufina al bisogno perché quello che mi interessava e che è importante in queste situazioni anche per evitare accessi ripetuti nell'ambulatorio del medico di medicina generale e allo stesso tempo in pronto soccorso è togliere i sintomi, soprattutto se pensiamo che non ci sia una patologia di rilievo importante come una sepsi, cosa che non era assolutamente presente, quindi se noi togliamo i sintomi, togliamo le motivazioni alla persona per tornare, quindi tachipirina 1000x3 ed eventualmente brufina al bisogno sarebbe stata la terapia da impostare. Gli esami ematochimici sono questi, vedete c'è una leucocitosi però con tutto sommato una norma rappresentazione sia delle tre serie principali, neutrofili, linfociti e monociti e non so bene perché, in prendenza della sintomologia che sembrava prevalentemente respiratoria, ecco qui anche qui l'importanza di prescrivere esami in maniera appropriata che siano diciamo in linea e certamente magari una sintomologia respiratoria con movimento del transaminasi potrebbe far pensare a una patologia non necessariamente delle basse via aeree ma anche soltanto delle alte via aeree, ad esempio da germi atipici perché noi sappiamo che clamidia e micoplasmi e anche legionella, ma chiaramente la legionella da un quadro di polmonite ben diverso possono anche accompagnarsi a delle alterazioni a carico di altri organi da parati, quale ad esempio un modesto movimento citolitico a livello epatico ora, viene vista dal medico curante questo movimento modesto delle transaminasi e probabilmente sulla base di questo dato viene richiesta una sierologia provate a pensare quale sierologia mai potrebbe essere stata richiesta, onestamente devo dire che io non l'avrei fatto lì per lì però il fatto sta che viene richiesta la sierologia per lepte in bar, quindi per il germe responsabile della mononucleosi e questa sierologia risulta come vedete positiva sia per gli anticorpi IgM che anche per gli anticorpi IgG e di fronte a un quadro di questo tipo, IgM ed IgG, bisogna pensare effettivamente che ci possa essere un discorso di mononucleosi ma che mononucleosi? dobbiamo ricordarci anche di questo fatto che la mononucleosi, contrariamente a quanto pensiamo, può decorrere anche in maniera sintomatica e del tutto silente cioè molte persone presentano una positività delle IgM e delle IgG, chiaramente per la mononucleosi e dell'Epstein-Barr e non hanno in anamneli un episodio acuto riferibile a mononucleosi, quindi la mononucleosi è una manifestazione clinica una sindrome del tutto proteiforme, il quadro clinico più frequente, il più frequente abbiamo detto è la sintomatica ricordiamocelo bene, il quadro clinico più frequente è quello faringotonsillitico che si può complicare da un rash cutaneo morbidiforme e questo rash cutaneo è precipitato solitamente dall'utilizzo di antibiotico specie con penicilline o penicilline protette anche semplicemente la moxicillina non protetta, quindi ricordiamoci che quando noi diamo dello Zimox, della moxicillina a un paziente che ha una faringotonsillite, magari anche di un certo impegno con delle membrane e se compare immediatamente un rash potrebbe non essere una semplice allergia alla penicillina ma potrebbe essere che in realtà questa faringotonsillite è virale e da mononucleosi molto frequenti sono anche sintomi costituzionali, quindi inappetenza, sensazione di nausea, febbricola eccetera e spesso la febbre può essere anche in certi casi piuttosto alta, anche se di solito la febbre molto alta si accompagna a un quadro faringotonsillitico molto impegnativo e molto importante che a volte appunto rende difficoltosa anche la deglutizione in questi soggetti anche spesso giovani poi ci possono essere, questo noi lo dimentichiamo ma dovremmo ricordarcelo sempre anche complicanze tardive che possono essere particolarmente impegnative e possono interessare anche apparati nobili, quali l'apparato cardiovascolare, polmonare ma anche il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico all'esame obiettivo poi potremmo riscontrare frequentemente delle linfoadenopatie specie latero cervicali e una splenomegalia che può essere anche importante una forma diciamo di faringotonsillite acuta con febbre alta accompagnata in un soggetto giovane perché in un adulto se non c'è la faringotonsillite c'è la febbre alta e la splenomegalia se ha fattore di rischio dobbiamo pensare ad altro, quale ad esempio un'endocardite batterica ma in un soggetto giovane con queste caratteristiche ci sta anche una splenomegalia palpabile possiamo palpare se siamo capaci e bravi almeno una punta di milza potremmo riuscire a vederla quindi diciamo che di fronte ad una serologia di questo tipo l'ipotesi di una mononucleosi e di una sua complicanza successiva può essere valida e essendo presenti già anche le IgG possiamo effettivamente pensare che si tratti di una mononucleosi nella fase già delle complicanze tardive perché le IgG sottendono una forma subacuta e quindi forma subacuta che potrebbe essersi complicata con questa sintologia respiratoria di dolore toracico facendo sottendere una complicanza bronchitica o pleuritica della infezione da Epstein-Barr-Virus e fin qui tutto ok il paziente era stato inviato a casa con dei sintomatici ma a distanza di un mese ritorna in pronto soccorso e al di là della nitidezza di questa foto che ho scattato dal Monte del Gesso in una giornata di particolare limpidità sottosera, vedete che le alpi ci vengono in mano qui la diagnosi non ci veniva molto in mano arriva perché riferisce che dalla serata dopo cena è comparsa a cefalea pulsante in regione temporale destra associata a vomito e ancora a iperpiresia viene riferito che da alcuni giorni è trattato con paracetamolo per questa presunta mononucleosi e nega alcuna sostanza di abuso o traumi recenti ancora una volta l'obiettività è completamente negativa il paziente vedete che è sofferente perché tiene gli occhi chiusi alla chiamata è confuso vengono riferiti questi movimenti a tratti afinalistici collabora poco per cui non sembra avere dei defici stennici ma il barelming a fini non sono valutabili e il resto dell'obiettività è sostanzialmente negativa così come anche i parametri principali e c'è questa modesta febbricola esegue un'attacca del cranio ci poteva anche stare per questa sintomatologia sfumata con cefalea pulsante quindi è giusto probabilmente in questi casi visto che l'abbiamo a disposizione chiedere anche per escludere situazioni grossolane un focolai emorragico cerebrale o cose di questo tipo un'attacca che risulta completamente negativa fa una visita neurologica ed viene inviato a Reggio Emilia per una visita neurologica dove arriva che un po' l'episodio ci è già risolto lui non ricorda granché non ricorda nemmeno di aver avuto il mal di testa in quel momento si sente molto bene l'esame neurologico è negativo nervi cranici ingeni non segni meningi e a questo punto sarebbe venuta voglia di mandarlo a casa di rimetterlo però pur essendo in presenza di questa obiettività o al massimo si poteva trattenere in osservazione breve naturalmente e poi ricontrollare la distanza se non ricomparivano sintomi un episodio così con TAC negativa insomma non poteva essere granché però non si capisce bene perché viene richiesto elettroencefalo e di programmare anche una risonanza magnetica dell'encefalo a volte effettivamente chiediamo un po' troppi esami quando invece se facessimo una buona osservazione clinica potremmo farne anche molto meno viene effettivamente messo in osservazione cioè dovrebbe essere messo in osservazione al ritorno in pronto soccorso da reggio è esattamente come visto in visita neurologica gli si propone quindi di stare in osservazione breve ma rifiuta e si dimette con l'indicazione a eseguire a breve un elettroencefalo a breve con impegnativa gli si dà un po' di brufen se dovesse ricomparire sintomi da rivalutare nel caso ricomparissero altri sintomi a distanza di ulteriori 15 giorni il paziente rientra all'osservazione del pronto soccorso un quadro è sostanzialmente simile a quello presentato la volta precedente ha una sudorazione profusa non ha rigor riferisce tremori grossolani alle mani parestesia alla gamba sinistra quindi non c'è la cefalea ma c'è questa sintomatologia diciamo sfumata che potrebbe essere anche semplicemente funzionale perché le parestesie possono essere funzionali ma anche secondarie a qualcosa il paziente viene inviato nuovamente a visita neurologica presso l'ospedale Santa Maria dove viene riproposto il ricovero in quella sede ma siccome doveva essere appoggiato nella sezione donne non si sa bene perché il paziente rifiuta e torna a Scandiano con questo diagnio di cefalea era comparsa anche una modesta cefalea e di poestesia all'arto inferiore sinistra di NDD questa è la visita neurologica che potete eventualmente leggere con molta calma si riporta quello che era successo in data 1 marzo avrebbe dovuto eseguire un elettroencefalo l'8 marzo ma non eseguito per non meglio precisati problemi tecnici dell'apparecchio riferisce che continuava ad avere un po' di iperpiresia che misurava occasionalmente e poi viene descritta la sintomatologia ed è enfatizzata vedete in questa visita anche il discorso di questa cefalea gravativa che va e viene da circa una decina di giorni con minore evidenza durante la deambulazione e assumeva FANS con un parziale beneficio poi gli ha interrotti non si capisce bene perché e continua ad avere dolore riferisce anche sonnolenza di urna questo è l'esame obiettivo l'esame obiettivo vedete a parte l'ipoestesia l'arte inferiore di sinistra non mostra assolutamente nulla viene proposto appunto come abbiamo detto l'indicazione al ricovero che il paziente è risciuto perché non vuole stare non so se è per la moglie presente o meno in mezzo ad altre donne che avevano comunque un'età media di 85 anni quindi assolutamente innocue arriva in Ascandiano dove viene ricoverato a questo punto con la storia che già sapevamo e che era stata sottolineata anche dalla diritta neurologica Ascandiano si conferma l'esame obiettivo del neurologo non deficit di prevenzione al barret con forse una sfumata difficoltà motoria a livello dell'arte inferiore di sinistro che era quello ipoestesico anche alla pianta del piede gli esami generali sono assolutamente i parametri come avete visto sono assolutamente nei limiti e si trattiene anche perché ormai era già venuto due o tre volte non si poteva rimandare indietro viene rivisto dal neurologa locale la quale sottolinea la presenza anche di una ipoestesia all'emivolto di sinistra e all'arto superiore di sinistra e con un sottosommato una sfumato deficit così lei evidenzia all'emisoma di sinistra con una certa instabilità soggettiva non babinski e conferma per questa sfumata iparesi sinistra che andava e veniva perché il giorno prima non era stata obiettivata la necessità di eseguire una risonanza magnetica in tempi brevi ed un elettroencefalo il paziente per la verità poi messo sotto terapia con FANS vedete flogofenac e diclofenac rethard e anche un po' di ansiolitico ha un discreto controllo del dolore cefalalcico e ordinariamente quando lo andiamo a visitare non si appalesa un deficit motorio significativo perché poi nel periodo in cui non ha dolore il paziente va a girare si muove e invece l'unico dato è che a questo punto compaiono dei valori pressori che sono tendenzialmente elevati ma già notati e data la stanza del paziente potevano sottendere l'un'ipertensione essenziale non trattata viene eseguita l'esonanza magnetica che vedete che è sostanzialmente completamente negativa è proprio completamente negativa il paziente dopo 48 ore sta bene benessere soggettivo non deficit neurologico di fosali apiretico ed epnoico e viene dimesso quindi con questa diagnosi ipotizziamo che in presenza di esonanza magnetica quindi di non deficit strutturali completamente negativa il paziente possa aver avuto una complicanza meningoencefalitica minore e eventualmente neuropatica per il discorso della ipoestesia e siccome effettivamente nella mononucleosi sono descritte delle complicanze di tipo neurologico sia del sistema neurocentrale che peristerico in presenza della serologia che avevate visto in precedenza lo dimettiamo condiando di recente infezione da Epstein-Barr virus con verosimile interessamento neurologico in fase di completamente diagnostico e per tensione arteriore di recente riscontro in sovrappeso di secondo grado e la terapia è questa terapia con FANS e terapia antipertensiva gli viene programmata una visita neurologica di controllo e viene riprogrammato nuovamente in realtà il paziente poi che potete immaginare molto bene aveva una compliance relativa non si presenta alla visita di controllo del 22 marzo ma arriva direttamente in pronto soccorso per la ricomparsa aveva sospeso ovviamente la terapia di cefalea temporale sudorazione tremori e ipoestesia alla solita gamba di sinistra ha già un obiettivo il paziente pare anche lievemente confuso non ha sebbere viene inviato nuovamente a visita neurologica dove quando arriva là dopo aver eseguito un antinfiammatorio che aveva sospeso a casa e aver ripetuto un'attacca completamente negativa si presenta con un'obiettività completamente negativa per cui il neurologo vista la stabilità del quadro concorda e dice c'è l'elettroencefalo il 24 fai l'elettroencefalo e poi ti ricoveriamo e anche qui non si capisce bene il motivo di questo ricovero perché se anche l'elettroencefalo fosse stato negativo mi piacerebbe capire quali altri esami potevano essere fatti in questo paziente non mi sembra che la sua sintotologia e il suo quadro facesse pensare all'ipotesi di dover fare comunque una rachicentesi paziente preferisce appunto essere dimesso torna a scandiano per essere dimesso in attesa di dover l'elettroencefalo e ricorre programmato anche qui appunto ripeto non si capisce fare che cosa presso la neurologia dopo aver eseguito l'elettroencefalo che risulta completamente negativo viene ricoverato in neurologia questo spiega perché in neurologia non ci sono mai posti letto per i pazienti acuti che ne avrebbero veramente bisogno rimane in neurologia dal 24 marzo al 2 aprile quindi si tratta veramente di un ricordo di 8 giorni e viene dimesso con questa diagnosi descrittiva di cefalea tipica e transitori disturbi sensitivo motori all'emitoma sinistro in evoluzione favorevole in paziente con recente virosi loro non si sbilanciano con l'idea della complicanza armononucleosica che mi sembrava la più logica e naturale e descrivono però parlano anche di questa recente intenzione da Epstein-Barr virus l'esame dell'elettroencefalo ha stato richiesto con due motivazioni valutare la presenza di alterazioni compatibili encefalitiche ma anche l'esonanza magnetica per cui ha qualche elemento e inquadrare l'episodio iniziale di stato confusionale peraltro poi non più ripetutosi con l'associazione di comportamenti afinalistici in una espressione di epilessia parziale anche questa non confermata tutte diagnosi descrittive ma dobbiamo chiederci che cosa aveva avuto realmente il paziente e prima dobbiamo fare un ragionamento onesto per noi la nostra categoria in medicina è sempre possibile una diagnosi devo dire che si possono escludere tante cose ma la diagnosi di certezza in molti casi non è possibile più delle volte in alcuni settori questo è stato codificato con criteri e punteggi e con essa la diagnosi può risultare possibile probabile e certa questo ad esempio in campo reumatologico è molto frequente ma anche in campo infettivologico ad esempio per quanto riguarda l'endocardite dove tutti ben conosciamo i famosi criteri di Duke ma anche se non c'è una diagnosi precisa l'importante è non sbagliare una diagnosi che potrebbe far rischiare al paziente la vita da anni permanenti e prendersi comunque cura di lui se questo il soggetto lo permette e seguire e curare i sintomi che presenta per il tempo necessario quali erano i punti fermi che abbiamo trovato in questo giovane trentenne innanzitutto un primo episodio di tosse e febbre con dolore toracico anteriore che evocava un dolore pleuritico e lieve in tremento delle transaminasi sierologia positiva per i BV con anche le IgM e le IgG con diagnosi presunta di mononucleosi dopodiché erano persistite puntati per pirettiche associate a cefalea a pulsello si associavano anche turbe della sensibilità periferica ed un paio di episodi di confusione mentale e perda di contatto con la realtà tutti gli esami ben due TAC una risonanza magnetica e un elettroencefalogramma erano privi di alterazioni significative il paziente tra l'altro presentava una scarsa compliance dato di non poco conto e frequentemente sospendeva la terapia tutto questo ci sta con una mononucleosi beh se noi guardiamo la frequenza di complicazioni in corso di mononucleosi effettivamente dobbiamo dire che l'interessamento meningoencefalitico non è poi così raro dobbiamo dire che appunto i risorsi neurologici diversi che la meningoencefalite pur rari sono presenti possono essere presenti e ci sono anche dei disturbi a livello dell'apparato respiratorio oltre che disturbi di tipo psicologico il paziente sicuramente presentava dei quadri anche non dico psicotici ma con alterazioni psicologiche in questa bella review fatta su una popolazione prevalentemente pediatrica vengono descritte le complicazioni neurologiche principali dell'Epstein-Barr virus che può soprattutto nei bambini complicarsi effettivamente con un quadro anche di tipo epilettico la cefalea vedete è presente nel 24% dei casi senza arrivare poi a complicazioni più severe come encefaliti cerebelliti militi trasverse eccetera eccetera le crisi epilettiche possiamo dire che prevalgono nelle attenzioni di età pediatrica mentre la cefalea non è rara un quarto dei pazienti in adolescenti giovani più rare altre complicanze come abbiamo visto allora forse la nostra diagnosi di recente infezione da Epstein-Barr virus con interessamento neurologico poteva non essere così campata per aria forse era effettivamente esatta e quindi si poteva trattare di una mononucleosi infettiva ad esordi atipico con prevalente espressione clinica neurologico psichiatrica dobbiamo ricordarci per completezza che la mononucleosi può complicarsi di interessare diversi organi ed apparati può mimare altre patologie e può persino decorrere come una fuo con una febbre di origine oscura e può complicarsi e mimare una malattia esantematica se incongruamente trattata con come abbiamo visto con penicilline a livello dell'addome degli organi splanchnici si possono verificare in corso di splenomegalia degli infarti splennici che possono arrivare fino alla rottura se la milza è molto grossa in forme particolarmente importanti e quindi anche questo va ricordato in un paziente se veramente compromesso aspetto da mononucleosi ci possono essere poi dei versamenti pleurici degli addensamenti che complicano l'apparato respiratorio e senza andare indietro nel 72 in questo caso di coinvolgimento del parenchima pulmonare dobbiamo ricordare che anche nella nostra casistica abbiamo avuto il quadro di una giovane con una pleurite mediata da mononucleosi oppure ci possono essere delle sindrome più complicate che insorgono nel corso di altre patologie ma di questo non possiamo su questo non possiamo entrare il discorso che possa mimare altre patologie del corso come fuo è molto importante e certamente nella diagnosi differenziale di una febbre di origine oscura in un paziente di età pediatrica o giovanile la infezione da Epstein-Barr è sempre collocata e poi come abbiamo detto può dare quadri di questo tipo se effettivamente trattiamo incongruamente il quadro farincotoxillitico d'esordio con una pedicillina sospendiamola immediatamente se compare un quadro di questo tipo e facciamo fare gli anticorpi anti Epstein-Barr perché potrebbe essere una cosa di questo tipo ma come sapete in medicina le opinioni possono essere diverse e sicuramente non è affatto facile raggiungere la verità ma questo nella vita in generale o trovare certezze quello che possiamo fare è ogni sforzo per riuscire ad avvicinarci buona lettura e buona compilazione dei test per riuscire per riuscire per riuscire per riuscire per riuscire